Il primo piatto è arrivato, il primo vassoio direi piuttosto scarso, è pieno di pappardella cibiale, speriamo nel rinforzo perché per quello lì poca roba per ora, vorrei scalzare l'acqua, addio il vino, che bello, meraviglioso, questa è una macchina fantastica, prendi anche il profumo, riprendi anche il profumo, ora mi dovete dire di chi sarà poi in merito della pasta, del sugo o del cinghiale, come si fa a fare il ragù al cinghiale senza cinghiale? di tutto in tre, ce n'è per nessuno, la tavola si sta ravvivando, prima uno, poi tre, poi 5, speriamo che a 11 ci si fermi, oh ma c'è posto qui eh, posto per chi? Basta, 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 non basta, non basta, non basta, manca la cuoca, chi l'ha portato il formaggio, e lo sguattero, no, la cosa da vino, ha detto che chi ce lo vuole? Ma, eh, 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 te lui, cosa vuoi? Te ce lo metti, ce lo metti lui? No, lui no, io te lo metto dentro, va dentro, va dentro, va dentro, no, ci metti, ci vuoi? Ma non lo stai nella melletta di fagioli? E ci metti il formaggio? Eh, questo ti ho detto tutto, caffè latte alla mattina, nella spruzzatina di parmigiano, se no non è mia buono. Ecco, 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 ecco.